E comprendo quanto detto da parte delle opposizioni rispetto al fatto che alcuni provvedimenti poi arrivati all'ultimo momento rendono più difficile il lavoro dell'Aula, dall'altra parte però è anche vero che in questo caso tutto ciò è dovuto, come ci ha spiegato l'assessore Lemmetti nella scorsa capigruppo, al fatto che la stessa variazione doveva essere aggiornata con le ultime disposizioni da parte del Governo, gli ultimi di PCM, affinché in qualche maniera potesse essere il migliore possibile da presentare per l'Aula. Credo che la stessa cosa poi verrà detta, come eravamo rimasti anche in capigruppo, dall'assessore Lemmetti quando arriveremo a dibattere la delibera in questione. Grazie.